Il Consiglio Comunale di Ischia vota la cittadinanza onoraria al Presidente del Tribunale di Napoli Emerito, Carlo Alemi. Antonio Piricelli, un importante riconoscimento? Sì, credo che sia un importante riconoscimento in quanto è una persona che si è spesa molto per dare un forte contributo all'Isola di Ischia in termini di lavoro al Tribunale, in termini di crescita del Tribunale qui a Ischia. Quindi credo che sia una cosa importante, sia una cosa che questa amministrazione ha voluto portare in Consiglio Comunale e quindi noi favorevolmente la voteremo. Tra l'altro sono anche gli altri comuni a fare la stessa cosa, quindi sarà una cittadinanza onoraria isolana? Sì, è una cittadinanza sicuramente isolana, è una persona di spessore, una persona come dicevo prima che sicuramente ha voluto portare dei benefici e dare un forte apporto a quella che è la giustizia sull'Isola di Ischia. Tanto si è speso per il mantenimento della nostra sezione di staccata qui sull'Isola? Sì, ha dato sicuramente un forte contributo, è stata una persona sempre in prima linea, vicina alle esigenze della cittadinanza e soprattutto ha dato forza e spessore e soprattutto qualità in termini di giustizia e fondamentalmente per far sì che si mantenesse qui a Ischia il Tribunale. Quindi questa della cittadinanza onoraria è un atto dovuto? Più che un atto dovuto io direi che è un atto che qualifica le nostre amministrazioni ed è un atto che fondamentalmente va a dare un tributo ad una persona che lo merita. Grazie a tutti.